Anche Papa Francesco, un po' sulla scia dei suoi predecessori, ha questa ansia apostolica, la chiamerei così proprio, di rafforzare sempre più, di cercare di rafforzare sempre più i rapporti fraterni con le chiese cristiane. Il Papa va in occasione della festa di Santa Andrea, che è la festa del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, quindi va a condividere la gioia e la celebrazione di quella chiesa e va appunto anche per firmare questa dichiarazione comune, una dichiarazione che si colloca un po' sulla scia di quella già firmata a Gerusalemme nel maggio scorso e che intende appunto rafforzare i legami di amicizia, di collaborazione, di dialogo fra le due chiese e di esprimere preoccupazione anche per la situazione e la sorte di tanti fratelli cristiani che si trovano in situazioni di difficoltà e di persecuzione, soprattutto nella regione del Medio Oriente. Quindi penso che sarà un momento molto importante e molto diciamo intenso per rinvigorire questo cammino ecumenico, non solo nei confronti della chiesa di Costantinopoli, ma speriamo anche di tutte le altre chiese ortodosse. Impossibile non pensare alla delicata situazione in Medio Oriente, resa ancora più precaria dall'opera sanguinaria del sedicente stato islamico. La pace sembra impossibile, come spezzare questa spirale di violenza? Certamente la situazione, come lei ricordava, continua ad essere molto grave e sicuramente il Papa approfitterà anche di questo nuovo viaggio proprio per continuare la sua missione di messaggero della pace. La soluzione la conosciamo, la soluzione è più facile e più difficile di quello che sembra, ma comunque deporre le armi e avviare un dialogo, avviare un negoziato. Ecco, impensabile che ci possa essere una soluzione armata, che ci possa essere una soluzione unilaterale imposta con la forza da parte di qualcuno. La Santa Sede l'ha sempre detto, ecco, la soluzione non può essere che regionale, che comprensiva e tenere conto degli interessi, ecco, e delle aspettative di ognuna delle parti coinvolte. Purtroppo in questi giorni assistiamo anche a un ulteriore deterioramento della situazione in Terra Santa. Ecco, vediamo appunto cosa sta facendo lo stato, il cosiddetto stato islamico. Bene, questa è la strada per arrivare ad una pace, ecco, senza poi ricordare nel caso dello stato islamico quello che la Santa Sede ha richiamato più volte e cioè il principio di fermare, ecco, del diritto di fermare l'ingiusto aggressore tenendo conto del diritto internazionale, nel rispetto del diritto internazionale. Nel lottare contro quelle che sono le cause anche di questo fenomeno terroristico, ecco, non possiamo aspettarci una risposta esclusivamente legata, diciamo, all'aspetto militare, all'aspetto della forza, ma cercando di capire e di ovviare e di risolvere quelle che sono le cause di questo fenomeno. E credo giusto anche denunciare quelle che possono essere gli appoggi, sia di tipo politico che di tipo economico, che lo stato islamico continua a ricevere. E poi il dialogo interreligioso, ecco, e la capacità da parte di tutti e soprattutto anche dei responsabili e dei leaders musulmani di denunciare, ecco, la manipolazione della religione e l'uso del nome di Dio, ecco, per fare violenza contro gli altri. Alla violenza ci sono numerose e drammatiche conseguenze. Pensiamo alle migliaia di persone in fuga ai confini, in cerca di salvezza, così come a una presenza sempre più esigua dei cristiani in questi luoghi. Cosa fa la Chiesa in questo orizzonte? Beh, credo che la Chiesa è impegnata veramente in un grandissimo sforzo proprio di sensibilizzazione prima della comunità internazionale per soccorrere alla necessità di questi fratelli e sorelle che sono profughi e rifugiati e poi mettendo in campo proprio tutti i suoi mezzi, diciamo, della carità. Ecco, sappiamo quanto le organizzazioni internazionali cattoliche, le agenzie cattoliche di aiuto, le Caritas, ecco, stanno operando nel terreno proprio per soccorrere i bisogni di questi nostri fratelli, soprattutto di fronte all'inverno che è già arrivato e che renderà ancora più precaria e più dura la loro soluzione. E poi questa insistenza giusta, doverosa, necessaria sul diritto al ritorno. Ecco, questo è un altro punto che la Santa Sede continua a ripetere, sul quale continua ad insistere, un ritorno nella propria patria, nelle proprie case, nelle proprie terre, ecco, in condizioni però che permetta a questa gente di poter vivere con serenità, ecco, condizioni che assicurino loro il diritto alla vita, il diritto alla sicurezza. La Turchia, dove appunto Papa Francesco a breve si recherà, è caratterizzata da una convivenza multiculturale e multireligiosa. Quali sono a suo avviso gli aspetti ai quali Papa Francesco vorrà dare corpo anche? Prima di tutto una, come dire, una sollecitudine nei confronti della Chiesa, della Chiesa locale, una piccola Chiesa che negli anni passati è stata anche testimone di episodi dolorosissimi, di violenza, ecco, ma che persevera nella sua missione. Mi pare importante sottolineare proprio questa volontà della Chiesa cattolica in Turchia nelle sue diverse espressioni, perché abbiamo la Chiesa latina, abbiamo la Chiesa armeno-cattolica, la Chiesa caldea, la Chiesa siro-cattolica, però di perseverare nella sua missione, che è di testimoniare una presenza, per assicurare, ecco, questo dialogo con l'Islam, che è molto importante, molto importante, nonostante appunto tutte le difficoltà e gli ostacoli, la Chiesa cattolica in Turchia è impegnata in questo dialogo con l'Islam ed è impegnata un po' sulla linea e con lo stile che caratterizzò la presenza dell'allora delegato apostolico, Monsignor Angelo Giuseppe Roncalli, oggi San Giovanni XXIII, questo stile di fare da ponte, come ricordava anche il Papa Francesco qualche domenica fa, non costruire muri ma costruire ponti, ecco, dove ci possa essere l'incontro tra le persone e Giovanni XXIII è stato proprio un ponte sul Bosforo per l'incontro, ecco, dei turchi, dei greci, dei cattolici, degli ortodossi, dei musulmani, degli ebrei, ecco, questa è la vocazione, poi naturalmente anche l'assistenza religiosa alle famiglie cattoliche, alla comunità cattolica e molti pellegrini che si recano, che si recano. Direi che il Papa, ecco, quindi darà questa, questa, diciamo, la sua presenza sarà una presenza di incoraggiamento per la Chiesa e nello stesso tempo di sostegno a questo impegno di dialogo con l'Islam che la caratterizza.